La città metropolitana Sicuramente è una buona notizia che riapriamo le scuole e speriamo che questa pandemia non ci riporti nello stato che abbiamo visto negli ultimi due anni. Sono felice che si riapre e si riapre nel modo giusto. È chiaro che in città metropolitana tanti sono stati gli sforzi negli ultimi anni e tanto c'è ancora da fare per l'efficientamento degli istituti scolastici. Quindi io posso dire che si riapre in maniera organizzata ma è chiaro che bisogna guardare le cose in maniera singolare. La situazione in tutta la città metropolitana sull'edilizia scolastica è un po' a macchia di liopardo. Ci sono delle situazioni dove gli edifici scolastici nuovi non hanno nessuna difficoltà come allo stesso tempo abbiamo degli edifici scolastici che richiedono una ristrutturazione e dal punto di vista strutturale e anche dal punto di vista energetico. Però mi sento di dire che siamo fiduciosi che in linea generale il tutto possa partire nel miglior modo possibile. Con la giusta attenzione alle problematiche che sicuramente ci saranno e con la struttura amministrativa e istituzionale che abbiamo siamo certi di poter dare delle risposte celere per la risoluzione. La città metropolitana ha investito tantissimo nella scuola, poi è una delle competenze principali della città metropolitana, la scuola rappresenta la parte più consistente anche nel bilancio. Oltre a questo la scuola ha ricevuto per la città metropolitana quasi 10 milioni di euro del PNRR. E proprio in queste ore noi abbiamo avuto una conferma che gli elaborati, i tecnici, i progettuali per la realizzazione dei progetti finanziati al PNRR per 10 milioni di euro sono stati approvati dall'amministrazione. Riusciremo a dare i tempi, riusciremo a fare il tempo per poter spendere questi 10 milioni di euro in tutte le aerospalastiche? Le linee programmatiche di mandato della nostra amministrazione e dell'amministrazione appunto del sindaco Manfredi sono ben chiare su quello che bisogna fare nell'ambito dell'edilizia scolastica. In particolare nell'ambito strategico relativo alla rigenerazione dell'area metropolitana le scuole hanno una centralità importante. Ecco, questi primi 10 milioni di euro di finanziamento del PNRR sono il primo approccio e il primo lancio che noi vogliamo fare in questa direzione. Sono i primi, ecco come dicevo, ma non saranno praticamente gli ultimi. È chiaro che il PNRR mette dei paletti ben precisi relativamente anche alle tempistiche di esecuzione. E mi sento di dire in maniera tranquilla, fiducioso di una grande macchina amministrativa e una direzione di area scolastica che si muove nella direzione giusta che questi 10 milioni verranno impegnati e non saranno i soli. Anzi, siamo già in pista e al lavoro per poter fare altri stanziamenti e proprio per questo abbiamo lanciato una campagna di analisi su tutto il territorio e su tutta l'esigenza della platea scolastica per capire quali sono quegli istituti che sono meritevoli di misure di intervento importanti, sempre legato a quelle che le mie programmatiche di mandato dettano nel loro contenuto. Ecco, a proposito delle linee di mandato, quali sono le indicazioni su cui si muoverà lei come assessore delegato e quindi l'amministrazione? Difetti passivi, l'acquisto di nuove all'ordine, la stabilità degli edifici, la sicurezza, la modernamento? Sì, ecco, lei ha centrato pienamente quelle che sono le misure di intervento. È chiaro che noi andiamo in due direzioni specifiche. Una è quella della realizzazione di nuove strutture scolastiche. Un'altra invece è quella di un occhio di riguardo a quello che è l'efficientamento energetico di tutta la struttura scolastica che abbiamo sull'area metropolitana, l'adeguamento sismico, l'adeguamento della certificazione relativa alla sicurezza. E questi sono temi che richiedono un'attenzione specifica e particolare. Il PNRR ci aiuterà in questo, ma anche i fondi diretti della città metropolitana, quindi tutte quelle che sono le entrate della città metropolitana, una grande parte verrà destinata proprio all'efficientamento delle strutture già assistenti. Ecco, io le volevo chiedere un'ultima cosa. La scuola è fatta da amministrazione nella città metropolitana che spende soldi, investe e così via, ma anche dai direttori scolastici, dagli dirigenti scolastici, dai professori, dagli studenti. Se lei dovesse fare un appello alla collaborazione, così come ci ha detto il sindaco, come si fa anche le linee programmate che si richiede una collaborazione di tutti i soggetti presenti nella corsa, se lei dovesse fare adesso un appello ai dirigenti scolastici, ai docenti, ma anche agli studenti, come potete collaborare insieme? Che cosa le chiederebbe? Allora, io mi sento di aggiungere a questa platea di persone, di soggetti che sono portatori di interesse, anche le istituzioni territoriali, quindi anche i sindaci delle città. Io perché dico questo? Perché il lavoro deve essere necessariamente sinergico tra i sindaci delle varie città, tra i dirigenti scolastici e le esigenze anche degli studenti. L'appello che io faccio è quello di lavorare in maniera sinergica, noi senza una mappatura esatta di quelle che sono le esigenze del territorio. E questo può venire esclusivamente dai dirigenti scolastici, che si interfacciano con la platea e degli insegnanti, ma anche dei nostri ragazzi, senza praticamente l'impulso che viene da loro, noi non sappiamo bene come dover andare a impegnare i fondi che abbiamo. Allora, più che parlare di una caduta a pioggia di finanziamenti sul territorio, noi dobbiamo essere chirurgici in questo. Quindi l'appello è che tutti questi portatori di interesse, quindi e dal lato istituzionale, relativamente all'aspetto politico del territorio, quindi sindaci, e dall'altro praticamente invece ai professionisti che lavorano sul territorio e aiutenti, dobbiamo fare in modo che ci si deve concentrare su quelle che sono le esigenze di ogni singola direzione scolastica e di ogni singolo presso. Poi è chiaro che ci sono delle specificità e queste vanno affrontate insieme a chi le presenta.